Brutte notizie sul fronte della sicurezza stradale. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea, il ritmo di diminuzione dei decessi per incidenti nel 2014 è crollato. Si è registrato un calo soltanto dell'1% circa a fronte dell'8% del 2013. In tutto lo scorso anno, nei 28 stati membri dell'UE, ci sono stati 25.700 morti su strada. Guardando ai diversi paesi, il numero delle vittime varia sensibilmente. Se il tasso di mortalità medio a livello europeo è 51 morti sulle strade per milioni di abitanti, questa cifra in Bulgaria, Lettonia, Lituania e Romania schizza a 90 morti. Va molto meglio invece a Malta, nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito, dove si continuano a constatare i tassi più bassi di mortalità su strada, con meno di 30 decessi per milioni di abitanti. Per la Commissione, gli stati virtuosi dovrebbero fungere da esempio per gli altri. Dal 2010 ad oggi si è comunque registrata una riduzione del numero totale di vittime pari al 18,2%, con l'Italia che con il suo meno 23% ha fatto meglio della media europea. Almeno questa una buona notizia. Grazie. Grazie.